Laura, ricevi questo anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alessandro, ricevi questo anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!